Musica Ben ritrovati al D per D è venuto a trovarci Erasmo Lombardi per presentare insieme ad un ospite un nuovo progetto per la polisportiva Gaeta vediamo insieme di che si tratta grazie Irene, grazie per averci concesso questo piccolo spazio nel tuo D per D e grazie anche alla redazione che si è adoperata affinché questo fosse reso possibile siamo qui per un appuntamento con un amico, un amico della nostra città di Gaeta che ha ideato, che ha contribuito alla realizzazione di un progetto un progetto che ricade nell'ambito sportivo ed ecco spiegato il motivo in particolare della mia presenza ma è una cosa che sicuramente va descritta bene per questo vi presento il nostro amico che è qui in studio Raffaele Di Tucci ciao Raffaele, buonasera, benvenuto a Teletere Golfo Raffaele, qual è questa idea che ti è venuta, che ti ha illuminato e per la quale hai combattuto per realizzarla? un'idea che nasce un po' per caso un giorno camminando per le vie di Roma ho visto un negozio che esponeva delle maglie storiche di calcio ovviamente, perché parliamo di quello siamo qui per quello nella mia testa sono passate delle immagini forse un sogno che grazie al tuo aiuto e grazie all'aiuto di qualcun altro di cui parleremo dopo finalmente sono riuscito a realizzare questa cosa che fino a qualche tempo fa era irrealizzabile e credo che poi sia un oggetto di culto soprattutto per i più appassionati insomma Erasmo dunque parliamo di sport nella fattispecie parliamo di calcio per cui si parla di un capo d'abbigliamento quest'anno, o meglio l'anno scorso ma a cavallo con quest'anno c'è stato un evento in città importante per la Polisportiva Gaeta dillo tu sì, c'è stato un evento che l'evento sarebbe l'ottantesimo il compimento da parte di quella storica società sportiva che è la Polisportiva Gaeta il compimento dell'ottantesimo anno e noi sportivi affezionati alla città e forse ai record tutte queste cose ci vogliamo soffermare su quello senza poi scendere nel particolare su quest'annata che ancora non è conclusa quindi per noi non è ancora da catalogare insomma no no sicuramente tra l'altro siamo reduci da un bel successo in settimana con il Campania che ci ha fatto finalmente nuovamente abbracciare e dire forza Gaeta insieme però ecco questo ottantesimo anno ne abbiamo parlato tante volte perché Luigi perché Raffaele è venuto a conoscenza della nostra iniziativa quella del libro sugli 80 anni della Polisportiva e ha detto senti Erasmo perché non ci inventiamo qualche altra cosa che possa essere diciamo un corollario che possa andare a completare in un certo senso questa vostra iniziativa e quindi cosa hai pensato di fare e quindi quando ho realizzato l'oggetto che volevo produrre mi sono subito messo in contatto con te per avere so che tu sei forse l'unico che nella zona ha una collezione di foto che è invidiabile da parte di tutti dei più appassionati quindi mi sono messo subito in contatto con te in modo che tu potessi fornirmi diciamo la foto più precisa della prima della Polisportiva perché è proprio di questo che stiamo parlando siamo riusciti grazie a un grande impegno del sottoscritto ma in modo particolare di te che mi hai fornito il materiale dico la verità ti ringrazio anche davanti a tutti insomma mi hai fornito il materiale necessario affinché il mio sogno si realizzasse qua dobbiamo un po' entrare nella macchina del tempo bisogna tornare indietro esattamente di 80 anni perché la prima maglia di cui parliamo fu usata dal Gheeta nel campionato 32-33 il Gheeta come tu sai venne fondato il 19 gennaio del 1931 quindi non disputò il primo campionato 31-32 disputò il campionato seguente il 32-33 la terza divisione dell'epoca la terza divisione laziale che è paragonabile più o meno al campionato di promozione di adesso il primo campionato giocò il campionato Ulich che era un campionato giovanile lo giocò con una maglia bianco-rossa strisce verticali con uno scudetto ma fu una maglia una non maglia nel senso che fu una specie di maglia sperimentale la prima maglia ufficiale si vede nelle fotografie che la regia sta mandando in onda ecco questi cinque baldi giovanotti che indossano questa splendida maglia splendida se non altro per il suo valore storico che insomma è indiscutibile perché Raffaella voglio dire all'epoca non è che era facile fare un completino per i giocatori ho trovato foto di squadre anche più importanti che avevano i completi sparigliati perché non era certamente facile non erano presenti le fabbriche che tuttora le fanno in grandi numeri e quindi ogni maglia probabilmente era un oggetto unico che aveva in sé delle imperfezioni che appunto la rendevano ancora più unica non c'era la produzione in serie probabilmente la maglia che avete visto era fatta addirittura all'uncinetto o cose del genere in una zoomatura che abbiamo fatto siamo probabilmente venuti abbiamo visto le maglie che si intersegano bene la maglia dell'epoca l'avete vista è quella che indossavano i cinque giocatori del Gaeta che non sono tutti riconoscibilissimi avete visto però il grande maresciallo taglia la tela Mario taglia la tela che è il penultimo il più bassino tra i cinque adesso Raffae vogliamo vedere che abbiamo combinato andiamo al dunque con l'aiuto della nostra regia vi facciamo vedere la splendida maglietta che è stata realizzata da un'azienda di Roma che è tra le aziende leader tra i capi di abbigliamento storici delle squadre credo si possa dire delle squadre più importanti d'Italia e del mondo perché aver fatto la maglia del Gaeta ma questo lo dirà poi Raffaele è stata un'eccezione perché loro fanno soprattutto maglia e squadra di Serie A io chiedo alla regia di inquadrare la nostra tra virgolette maglietta che speriamo diventi la maglietta di tanti Gaetani eccola qui a fianco c'è una locandina che mettiamo perché è un dovere lo spiegherà Raffaele perché non è una promozione pubblicitaria questa qui Raffaele perché c'è lì la locandina dell'old soccer mentre chiedo alla regia di rimanere così perché quello è lo stemma avete visto quasi perfettamente identica all'originale poi spiegheremo perché quasi vorrei aggiungere a fianco alla locandina un grazie un grazie scritto a carattere di Cubitali perché se oggi siamo qui a celebrare questo sogno lo dobbiamo a quell'azienda che ci ha fornito questo oggetto è un'azienda che produce maglie di altissima tiratura che non certo non si mette a perdere tempo con l'ultima arrivata insomma quindi dobbiamo ringraziare in modo particolare l'old soccer con sede a Roma e il suo staff che sinceramente mi ha anche un po' sopportato perché la mia richiesta era pressante dovevo anche confrontarmi con te hanno fatto un'eccezione lo possiamo dire hanno fatto un'eccezione grandissima che ha portato questo grandissimo frutto tra l'altro vedo per chi è pratico di Roma che siamo proprio nel cuore del centro storico via di ripeto siamo nel cuore di Roma nel cuore del centro storico è un negozio che ovviamente produce maglie di blasone mondiale c'è maglie di Barcellona della Juve del Milan sono maglie insomma io invito tutti chi è appassionato di articoli storici di soffermarsi un attimino soprattutto poi chi ama delle squadre nostrane maglie molto particolari della Lazio della Roma degli anni 30 40 insomma sono oggetti di culto per i appassionati insomma ecco Raffaele qual è la particolarità però della proposta che non è una proposta commerciale tua supportata dall'oldo soccer e anche da noi e cioè da me da Enzo Lieto da Antonio Mitrano che stiamo scrivendo il libro e che abbiamo aderito alla tua idea e abbiamo contribuito alla realizzazione anche se le due cose per chiarezza viaggiano su due binari paralleli quindi non convergenti nel senso che sono due iniziative che vanno entrambe supportate dalla Polisportiva che è stata informata di questa iniziativa che vanno entrambe a cercare di dare una degna cornice a questo ottantesimo anniversario che con le difficoltà societarie forse non è stato proprio celebrato nel migliore dei mondi adesso siamo ormai le date ci impongono l'ottantunesimo compleanno noi vogliamo soffermarci ripeto come già detto prima all'ottantesimo perché forse credo che sia più giusto finire con cifra tonda e anche perché poi ritornando all'oggetto in questione la maglietta in questo periodo compie esattamente 80 anni perché è stata usata per la prima volta nel 1932 quindi siamo nel 2012 se la matematica non è un'opinione siamo a quota 80 esatto allora questo progetto Raffaele aveva bisogno di qualcuno che dal punto di vista istituzionale ti fosse ci fosse vicino in maniera tale da poter fare le cose nella massima trasparenza possibile anche perché si tratta comunque di un prodotto commerciale che avrà dei risvolti fiscali o cose del genere che non voglio andare a indagare troppo da vicino però chi è che ci ha offerto la sponda per poter far sì che questo si realizzasse la sponda la spalla ce l'ha fornita e qui colgo l'occasione per ringraziare l'associazione culturale 900 che ci è stata vicino e ci ha consigliato anche alcuni alcuni modi alcuni metodi per acquisire in modo più preciso questa maglia anche a livello fiscale insomma ci siamo dovuti comunque tutelare e consigliare con l'associazione culturale 900 che devo ringraziare ancora una volta il presidente Tonino Liedo Tonino Liedo ricordiamolo che ci ha ci ha fornito ospitalità e consigli utili affinché questo sogno prendesse forma questo è un oggetto che comunque Erasmo è unico nel suo genere non c'è nessuno fino ad ora io credo che abbia mai proposto questa maglia né tanto meno quello che stai facendo te con Antonio Mitrano e Vincenzo Liedo i tuoi più stretti collaboratori che stanno portando a fine insomma infine un progetto che è quello del tuo libro che è veramente unico nel suo genere perché a Caeta non esistono non esiste un archivio storico e non esiste insomma un nessuno che abbia tutto quello che credo sia arrivato in possesso voi insomma intanto abbiamo visto e chiedo anche alla regia di riproporla la foto di Sergio Pampaloni uno dei grandi Gaetani fondatore della polisportiva che era insieme a Ricinello a Manieri a Taglia la Tela ce ne sono tanti ma non voglio dimenticare nessuno al presidente Mariotti che fu il primo presidente volevo dire appunto ecco la maglietta è praticamente questa a maniche corte abbiamo optato per il modello a maniche corte però ci potrà essere a secondo delle richieste Raffaele un'ampia disponibilità di modelli di taglia ci siamo impegnati con noi e la Old Soccer affinché la maglia fosse possibile acquistarla ognuno di noi ha una taglia ha un fisico diverso io fuori quindi fuori da ogni probabilmente c'è anche per te Erasmo le devono mettere due insieme per me va bene ci sarà l'impegno della Old Soccer a fornirci diciamo la più vasta gamma di misure quindi diciamo ogni credo che ogni tifoso del Gaeta potrà ordinare e ricevere la maglia che più gli si addice benissimo intanto diciamo perché giusto dirlo questa non è la maglia definitiva è un prototipo fatto apposta per Raffaele e per chi ha voluto partecipare a questa iniziativa dalla Old Soccer per cui la maglietta finale avrà delle modifiche per esempio qualcuno di voi avrà già visto probabilmente che lo scudetto ha delle tinte ecco inquadrato dalla regia un po' più scure del bianco rosso quella sarà schiarita ci sarà il collo leggermente più largo per andare proprio nella direzione della maglia storica che avete visto che probabilmente la regia vi farà rivedere ancora da adesso fino alla fine del nostro appuntamento per cui sarà migliorata lo scudetto in proporzione forse qualche ridocchino ci sarà anche ci sarà questo ripetiamo è un prototipo quindi dobbiamo ancora lavorarci su da questo momento invitiamo tutti coloro i quali vogliano comunque prendere accordi per acquistare questa maglia a farsi sentire metteremo le nostre mail faremo faremo in modo che gli interessati vengono a conoscenza dei metodi più consoni per contattarci intanto diciamo che proprio perché è un prototipo ancora non siamo in grado di quantificare l'eventuale costo che si limiterà diciamola alla sola produzione non ci sarà nessun tipo di provento né per noi mi includo anch'io che la sto presentando né per Raffaele né per la Old Soccer che ha sposato questo progetto a perdere praticamente o meglio in parità in pareggio sì sì l'associazione Cultura del Novecento insomma siamo rimasti d'accordo anche proprio su questo nessuno di noi vuole guadagnarci è un'iniziativa fatta solamente per il tifoso per l'appassionato anche per lo storico direi per lo storico appunto sì che vuole essere in possesso di un oggetto che sinceramente è raro e credo che nessun altro avrebbe mai pensato di poter realizzare anche perché il corredo storico era un po' carente sì dobbiamo dobbiamo ringraziare loro che da una foto forse anche un po' sbiadita che abbiamo fornito sono riusciti a fare con tanta precisione chi ha avuto la fortuna di toccare con mano almeno per ora questo prototipo ha visto insomma la precisione dell'oggetto ancora ripetiamo abbiamo in mente qualche modifica qualche modifica da apporre poi lavoreremo insieme insomma per cercare di migliorarlo il discorso è chiaramente che più persone aderiranno a questo progetto a questa idea di Raffaele realizzata grazie all'old soccer e al nostro contributo soltanto dal punto di vista storico perché se ci saranno tante persone che vorranno questa maglietta noi potremmo realizzare un altro nostro piccolo grande sogno mio e di Raffaele e cioè di vedere la polisportiva che è in campo con questa maglia ma insomma qua andiamo nel campo proprio dei sogni più sfrenati perché se ci fossero tante magliette se ne potrebbe realizzare almeno uno stock per poter far giocare forse in questo campionato forse nel prossimo una partita al Geita alla polisportiva Geita con questa maglietta però non andiamo troppo in là con quelle che sono le previsioni noi speriamo soltanto che molti di voi aderiranno alla richiesta daremo le email che metteremo in sovraimpressione forse anche un cellulare forse i nostri recapiti su Facebook in modo che chi vuole potrà trovarci Raffaele che altro aggiungere per andare a chiusura che altro aggiungere io invito tutti i appassionati i tifosi della società a munirsi di questo oggetto che sarebbe bello Erasmo vedere la tribuna piena di queste di queste magliette insomma l'attaccamento alla maglia è quello che dobbiamo portare avanti fino alla fine insomma i nostri ragazzi seppur giovanissimi quest'anno lo stanno dimostrando dobbiamo farlo anche noi insomma dobbiamo farlo anche noi e io chiedo a tanti tifosi quelli che riempirono la partita nelle partite di eccellenza di tornare perché domenica nell'ultima partita col Campania erano veramente pochini la giornata era bella l'avversario era forte Gaeta merita qualcosa in più a livello di cornice di pubblico speriamo che queste cose servino proprio a cercare di ricucire di un figo si sta un po' spezzando speriamo di no benissimo io ringrazio Raffaele grazie per essere venuto complimenti per come te la sei cavata davanti alle nostre telecamere grazie ancora a Irene al suo D per D che ci ha ospitato forse siamo stati un po' lunghi chiediamo Venia di ciò ma credo che l'oggetto di questa discussione lo meritasse grazie a Roberto Avino alla regia grazie alla nostra coordinatrice della redazione sportiva Luana Cardillo un grazie a tutti voi e restituisco la linea a D per D a Irene ed è tutto per oggi vi ricordo come sempre che se volete potrete inviarci tutte le iniziative all'indirizzo di per D chiocciola eteregolfo.it arrivederci e buon proseguimento con i programmi di Tere Tere Golfo la tua città in tv ciao